benvenuto al quarto giorno di pratica di impara a meditare fino ad ora abbiamo fatto un viaggio attraverso il respiro la presenza e l'osservazione della mente oggi pratichiamo un'altra sessione di circa 10 minuti e andremo a sviluppare le connessioni praticando una scansione del corpo traendo ispirazione da un'antica meditazione tantrica in questo modo andiamo a riscoprire la tranquillità che esiste già in noi preparati sistemandoti nel tuo luogo che hai scelto per la tua meditazione in silenzio e pace osserva che realmente passiamo molto tempo nella nostra mente trascurando però cosa accade realmente nel nostro corpo quali emozioni lo attraversano e come vive la sua fisicità per la pratica di oggi puoi sistemarti sdraiato a pancia in su comodamente con i palmi delle mani rivolti verso l'alto se senti freddo puoi coprirti con una coperta bene ora chiudi gentilmente gli occhi e compi gli ultimi movimenti necessari a farti sentire a tuo agio nella posizione inizia semplicemente a radicarti nel tuo respiro inspira attraverso il naso riempiendo completamente i polmoni espira dalla bocca molto più lentamente portando fuori tutta l'aria e unitamente all'espiro lascia andare tutte le tensioni e rilassa continua ancora breve inspiro attraverso il naso che riempie completamente i polmoni espiro lungo e lento verso l'esterno attraverso la bocca e rilassa breve inspiro soffia il respiro verso l'esterno breve inspiro lento e spiro inspiro brevemente ed espira lentamente e spiro lungo e lento e spiro lungo e lento spiro molto bene ora ritorna gradualmente al tuo ritmo naturale mentre ti guido in un viaggio nel tuo corpo il tuo respiro è calmo ritmico e costante e mentre espiri il tuo corpo sprofonda sempre di più nel rilassamento visualizza ora un palloncino colorato fluttuare sopra la tua testa esso contiene tutte le tue tensioni mentali ad ogni tuo espiro visualizzalo allontanarsi espiri e si allontana sempre più fino a dissolversi e allo stesso tempo senti la tua testa leggera il tuo viso si rilassa la tua fronte si distende le palpebre sono rilassate la bocca leggermente si apre scaricando le tensioni mentalmente pronuncia questa intenzione mi lascio andare bene ora senti che ogni tuo respiro è il tuo respiro scorre in modo armonico attraverso il tuo corpo e mentre scorre elimina tutte le tensioni il collo si rilassa le spalle si rilassano braccia e gambe si rilassano senti ora il torace che si espande inspirando ed espirando rilascia le tensioni attraverso le tensioni ad ogni tensione che si scioglie senti il tuo corpo sprofondare sempre più spostati sullo stomaco spostati sullo stomaco inspira ed espira e rilassa lo stomaco ogni tensione presente sullo stomaco si rilassa sposta la tua attenzione nella pancia sposta la tua attenzione nella pancia inspiri e la pancia si gonfia espiri e la pancia si rilassa ora invia i tuoi prossimi respiri giù nelle gambe dalle anche alle cosce alle ginocchia ai polpacci le caviglie fino alla base dei piedi alle dita dei tuoi piedi invia i prossimi respiri anche sulle braccia dalle spalle ai polsi alle mani rimani per qualche istante sulle mani cosa senti? caldo? freddo? senti il cuore che pulsa? bene ora ti lascio qualche istante in silenzio ad osservare cosa sta accadendo dentro di te così puoi notare se riesci a sentire il flusso naturale di energia che scorre dentro di te che ci sono non 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 Ritorna ora con la percezione al respiro. E noto come ti senti, noti una sensazione di morbidezza che non c'era prima di iniziare, o forse noti qualcos'altro. Prima di aprire gli occhi, fai dei movimenti gentili per svegliarti con dolcezza. Ogni volta che ti senti teso, troppo di corsa o sopraffatto dalla mente, ritorna qui a coltivare questo ritmo pacifico e rigenerante. Ora, apri gentilmente gli occhi e ringrazia te stesso per il bellissimo lavoro che hai portato a termine anche oggi. Hai creato ancora nuovo spazio e nuove energie alle quali attingere. Noi ci incontriamo per la pratica di domani, nel quinto giorno di esercizi e questa volta andremo a lavorare sulle emozioni. Namaste Grazie 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 Grazie